Ciao Red, tanto piacere. Ciao. C'è una cimice? No, mi ha detto aspetta un secondo che c'è una cimice e dobbiamo ammazzare una cimice. Ma che è ammazzata? No, non ammazzarla, portala fuori. Guarda. Brava, fai vedere che non ammazzarla, fai vedere, inquadra. Non riesce a girare. No, non riesce a girare. No, le cimice, gli animali non vanno uccisi. Esatto. Vanno portate fuori. Che piacere. Bene, e tu chi sei? Io mi chiamo Sanchi Elena. Sanchi? Sanchi Elena, vengo dalla provincia di Rimini. Elena Sanchi, dove? Sanchi. Sanchi, così? Perfetto. Dove è la provincia di Rimini? San Giovanni. San Giovanni Marignano? Sì. Dove c'era una volta una fabbrica che faceva le tastiere? Eh certo, sì. Sono contenta di essere qua. Bene, cosa facciamo? Parliamo o ascoltiamo qualcosa? No, ascoltiamo. Io in realtà non sapevo di questa diretta. E sei emozionata? No, io sono qua per farci ascoltare un secondo lavoro che vorrei far uscire in autunno. Ho attivato una campagna di MusicRazer e è stata terminata bene e ho inciso un nuovo album. Aiuto, aiuto, sei una grande. Il secondo album e quindi ci tenevo a farti ascoltare questo lavoro che però è inedito. Quindi sono un po' così... non so cosa fare. Se farci ascoltare l'album vecchio... Allora, automaticamente non te lo possono fottere perché nel momento in cui va in onda, che va in onda adesso, non te lo possono copiare. Automaticamente. Però devi decidere tu. Ci tenevo a fartelo ascoltare. Allora, allora ascoltiamolo. Allora quale? Senza nessuna esitazione. Parla di un kamikaze. Parla? Di un kamikaze. Ah, di quelli che si fanno esplodere? Sì. Bene, allora mentre io lo mando tu me lo canti. Va bene. Ok, vai. Cammini perso fra la gente, non ti conosco ma so chi sei. Con quello sguardo indifferente, porti nel cuore una lacrima. Ti avvicini lentamente, non hai più niente da perdere. Sotto il mantello il suo silenzio che ti ha rovato la libertà. E va nell'aria una lacrima che scivola sulla città. Senza nessuna esitazione, uccidi i sogni di angeli. Non è una follia o una prigione che ti ha ferito per l'eternità. In nome di una religione scopi l'ordigno nell'aria. Il cielo accende un'esplosione colpendo a morte l'umanità. E va nell'aria una lacrima che scivola sulla città. E va nell'aria una musica che libera una lacrima. E va nell'aria una lacrima che scivola sulla città. Nell'aria una lacrima che scivola sulla città. E va nell'aria una musica che libera una lacrima. è una lacrima che scivola sulla città. Sulla città, sulla città. Che suona qui? La mia band. Hai una bella band? Grazie. C'hai anche un Hammond? C'ho anche un Hammond. Socia ragazzi, qui siamo una grande? Ma fai molti concerti? Sì dai, facciamo un po' di concerti. Un po' o molti? Un po'. Soprattutto nella zona Rimini, Pesaro. Ma siete costretti anche a fare cover, chiaramente? Sì, sì sì. Nel 2015 è uscito il mio primo album, che si intitola Pore Migrante. E' nato delle punti di viaggio, delle esperienze che ho fatto in Africa. Che esperienze hai fatto? Ho fatto esperienze di volontariato, sono stata con i miei amici. Dove? Dove? Dando a Tanzania, Chigna, Madagascar, un po' in giro. Cosa vuol dire volontariato? Il volontariato è una cosa generale, in pratica? Lavoravo con i bambini. Mi occupavo dei bambini. Gli davamo da mangiare, distribuzione del cibo, vestiti. Ma perché hai fatto? Io sono laureata in giro di studente, ho laureato in cooperazione internazionale, ho avuto un marco in cooperazione internazionale. Poi la vita, la musica è sempre stata la mia vera passione, ho abbandonato tutto, ero in uno studio legale fino a cinque anni fa e ho mollato tutto per la musica. Ho avuto l'impressione, quando sei entrata, che tu non fossi normale. Eh, infatti, lo so. Poi ho fatto questa scelta dopo che è nato mio figlio. Ah, io non ho un figlio. Ho un figlio. Scusa, c'è qualcosa che non va. Allora, normalmente quando una donna diventa mamma si preoccupa di portare il cibo nel nido. Io mi sono preoccupata di dare un esempio a mio figlio che è quello di inseguire i suoi sogni e io lo dovevo fare. Ma, 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 ma vivi col papà del tuo figlio? Sì, sì, sì. È un musicista anche lui? È un musicista, è un musicista. E siete insieme nel gruppo? No, no, no. Lui fa un altro gruppo? Lui fa un altro gruppo. Praticamente non vi vedete mai? Mmm, facciamo molta fatica. E quindi riesci a campare di musica? No, a campare di musica no. Faccio dei progetti nelle scuole di musica, lavoro in una comunità sociale dove faccio dei lavoratori di musica, sì. E poi faccio i concerti. È sempre la musica. Ma tu figlio quanti anni hai? Quattro. Ma vieni a vederti? Sì. E gli piace la mamma? Canta le mie canzoni. Sì? È bellissimo. Sì, anche qua. Mi accompagnano, mi sostengono. All'inizio è stato difficile. Ma chi è venuto il tuo figlio? Il mio figlio e il mio compagno. Adesso sono andati a fare un giro perché, sai, tenerlo buono è difficile. E dovrebbe, certo. Immagina. Bene, guarda, sei molto brava. Sei riuscito a fare un fundraising che riesco in pochi a fare. È stato difficile, però mi sono anche divertita. Questa campagna si è chiamata In caduta libera. E la missione era quella di lasciare tutte le mie paure, tutte le mie lacci che mi tenevano. e quindi quella campagna in realtà mi ha aiutato molto davvero nel concreto poi a togliermi da quei lacci. Perché, come ti ho detto, il mio percorso è un po' strano. Amo definirmi avvocantessa. Cioè avvocante e cantantessa. Eh, così, sì. Così per ironizzare su uno sbaglio. Ma allora tu cosa facevi? Eri civilista o pellalista? Civilista, era uno studio che faceva più che altro pratiche familiari. Quindi i divorzi, quelle cose lì? Sì. Ah, bene. Guadagnavi molti soldi? No, assolutamente. Quindi ho detto scusate perché devo continuare a fare questa cosa che non mi piace mai. Red, grazie. Ci vediamo, sai. Senti, io ti ho compilato questo buono sconto di 300 euro extra se compri una 500 o 500 iso perché la Fiat, oltre a farci fare questo, gli ho chiesto anche un aiuto per chi fa musica e 300 euro extra alla fine dopo che hai negoziato dici c'era un ulteriore sconto di 300 euro. Ma sai che la devo comprare da macchina? Non si sa mai. Esatto, esatto. Non si sa mai. Eh, ciao. Grazie mille. Ciao bambina. Ciao.